Sabato 21 maggio alle ore 11 nella sede di via Pio X sarà presentato il murale dedicato a Biagio Manganelli, studente del liceo musicale tragicamente scomparso nel 2019. L'opera è stata realizzata dall'artista Marco Vecchio dopo aver condiviso con la scuola la storia di Biagio, le sue passioni per il mare, la musica, la poesia, la vita tutta. Per me dipingere questo muro è stato come fare un viaggio, conoscere l'anima di Biagio attraverso i suoi versi, provare a immaginarlo, conoscerlo attraverso le voci che me lo hanno raccontato, forse non si muore mai veramente, si diventa solo aria, parola, ricordo, così sono nati dapprima sei bozzetti, frutto di lunghe riflessioni, colori o simboli come un linguaggio cifrato e in ultimo un affresco di 12 metri, la prova per me più difficile, non tanto per le sue dimensioni quanto per il suo significato. Entrare nel mondo di una bellissima anima come un'orchestra e cercare di ritrarla, preoccuparsi di non tradirla, commenta l'artista. In questi anni la scuola non ha mai dimenticato di entrare nella memoria di Biagio, è stato semplice e naturale ricordare Biagio perché era un ragazzo splendido che brillava di valori profondi di cui ha lasciato tracce indelebili ed è per questo che mai smetteremo di ritrovarlo nella nostra memoria quotidiana, afferma il dirigente scolastico dottoressa Anna Vassallo. Saranno presenti alla cerimonia il dirigente scolastico dottoressa Anna Vassallo, l'artista Marco Vecchio, autore del murale, i docenti, i collaboratori scolastici, i compagni, gli amici, i genitori Clelia e Giuseppe. Tra gli ospiti ci sarà il professore Paolo Apolito, antropologo di grande levatura culturale. Saranno inoltre presenti alla manifestazione il dottor Adamo Coppola, il dottor Enzo Mazza, presidente del circolo Canottieri Agropoli, il dottor Giovanni Minucci, presidente dell'associazione Cilento For All, i quali si sono impegnati per portare a termine una deriva realizzata da Biaggio con i suoi compagni, che sarà a lui intitolata ed utilizzata per organizzare corsi di vela destinati ai ragazzi disabili. Gli studenti e le studentesse del liceo musicale accompagneranno il ricordo di Biaggio con la musica che lui amava tanto, un abbraccio colmo di affetto per i suoi genitori. Dopo la presentazione dell'affresco ci sarà nell'aula magna della scuola un altro momento dedicato a Biaggio e alle sue nubole.